Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi siamo arrivati finalmente all'attesissimo video con i risultati del mio contest dei 200 iscritti prima di iniziare a annunciare i tre vincitori voglio ringraziarvi avete partecipato veramente in tantissimi, più di 30 partecipanti e per questo vi ringrazio quando ho aperto il contest avevo poco più di 200 iscritti e siete saliti veramente velocissimi, siamo a 270 ad oggi continuate a salire sempre velocemente, per questo vi voglio ringraziare niente, non ho perduto tempo perché so che volete sapere i risultati e quindi andiamo a vedere i tre vincitori al terzo posto arriva il mitico Nubi Sniper con la performance che potrete vedere qui The Rising Aces molto bravo, mi è piaciuto molto l'effetto anche video la musica, molto bella in particolare la cosa di buttare gli assi una volta che salivano buttarli per terra hai eseguito tra l'altro verso la fine una mossa, una tecnica molto complessa l'hai eseguita direi in modo sublime e quindi ti meriti molto questo terzo posto iscrivetevi a Nubi Sniper al secondo posto arriva il grandissimo Emozioni Magiche con una versione di Acqua e Olio davvero molto originale secondo me Heart and Mind Revelation potete vedere sempre la performance qui iscrivetevi anche a Emozioni Magiche sei stato davvero bravo molto bella e quindi ti meriti questo secondo posto e ora al primo posto troviamo il mitico, l'unico inimitabile Ale Kuti con una routine molto carina di monete infatti ho apprezzato anche molto perché non hai usato le carte ma hai fatto qualcosa di più originale secondo me una routine con le monete davvero molto bella con i bussolotti e le monete quindi ti meriti pienamente questo primo posto mi è piaciuto molto la musica, le color correction e tutto il video in generale ok quindi questi erano i tre vincitori se non avete vinto capita ci sono tante opportunità e potrete vincere sicuramente una prossima volta volevo anche fare i complimenti perché hanno fatto anche un ottimo video Mauro Tourchet Leonardo Micarelli Domenicus che però si è stato penalizzato per la qualità video che era piuttosto scarsa trucco in sé era molto bello ma tra l'altro è inventato anche da te mi sembra però la qualità video era veramente scarsa poi anche Simone Nicolaci e il mitico The Revelator of Magic che saluto tra l'altro i tre vincitori mi contattino via Max Privato o su Youtube o sulla mia pagina Facebook per i premi vi ringrazio ancora una volta ci rivediamo ad un contest prossimo che non so, non ho idea bene di quando sarà vedrò intanto l'appuntamento per una prossima performance che arriverà a breve e adios